Ciao ragazzi, come state? Spero tutto, 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 tutto bene benvenuti in questo nuovo video. Allora, intanto questo video sarà diviso in due parti. La prima parte è questa in cui parlerò in whispering, vi spiegherò delle cose, chiacchiereremo un po', e la seconda parte sarà in inaudible, in cui io leggerò per voi in inaudible, ok? Allora, il video è incentrato in realtà su questo libro, per nessun motivo, però così vi racconto delle storielle riguardanti questa scrittrice, questo libro, i vari libri in realtà che relate to me, no? Di lei, non so niente di lei, tranne alcune cose, mi sa, alcuni ghostip, e poi lo leggeremo un po' insieme in inaudible. Iniziamo. Intanto, ah, ci saranno anche vari trigger, ovviamente. Tanto il libro è uno splendido sbaglio di Jamie McGuire. McGuire. Allora, l'ho comprato, vediamo se riesco a togliere il prezzo qua, il bollino. Allora, vi insegno un trucco per togliere questi adesivi che ci sono sui libri, che sia per coprire il prezzo, sì, li mettono qui per scrivere tipo 9,99 o 3,90, non lo so, il trucco per toglierli senza rovinare la copertina, è quello di, almeno quello che faccio io, perché so che ce ne sono diversi in realtà. Prendo il fono e l'ho punto direttamente qui, proprio attaccato, 2-3 secondi, 5 massimo direi, fin quando non diventa un po' scuro e quindi la colla si è sciolta e riuscite a toglierlo facilmente senza creare questo, insomma. Ora non lo farò, ma probabilmente costerà sui 16,90 euro, se non sbaglio, perché è anche in copertina rigida, però io l'ho comprato al mercatino dell'usato e quindi l'ho pagato 3,50 euro. Vediamo se... ecco qua. adesso vi leggerò la trama. Allora, non so d'ammettermi, quando Maddox, facciamo così, il genio del male. Quando Maddox si innamora è per sempre. Gli occhi di tutti, Kami è forte e indipendente. Al secondo anno, alla Easter University, vive sola e si paga gli studi facendo la barista al Red Door, ma dietro l'aria da ragazza determinata e destarda si nascondono tante insicurezze, perché Kami è dovuta crescere in fretta, circondata dai suoi possessivi fratelli e da un padre che non ha mai approvato nessuna sua scelta. Trent Maddox fa il tatuatore e sa come mettersi nei guai. Se nasce una rissa è stato lui a cominciarla e se c'è un cuore spezzato è quasi sempre colpa sua. Qualcosa nel suo passato gli ha lasciato ferite profonde ma rimarginate. Da quel momento ha chiuso il mondo fuori. C'è un solo avvertimento per quelli come lui, stargli alla lark. Mi piscio. Kami lo conosce bene, ha visto tutte le sue conquiste e le sue bravate e sta molto attenta a mantenersi sempre a distanza di sicurezza. Ma una sera si incontrano per caso e Trent le offre da bere, senza un secondo fine e vuole solo esserle amico. E chi ci crede? Kami non ci crede, appunto, e avrete subito il pericolo. Non ha intenzione di farsi travolgere da lui come fanno tutte le altre. Non si può essere solo amica di un ragazzo come Trent. Eppure, standogli accanto giorno dopo giorno scopre la dolcezza di quegli occhi che sembrano aver scoperto le sue fragilità e vogliono solo proteggerla. fino a quando Trent confessa di volere qualcosa più dell'amicizia. E come dice suo fratello Travis, se un Maddox si innamora è per sempre. Così è stato per lui e la sua happy. Ma Kami non può permettere che questa accada sarebbe un grosso imperdonabile sbaglio, perché c'è una verità che Trent non conosce di lei. lei deve fare di tutto perché non la conosca mai. Jamie McQuire è ormai un idolo per i lettori italiani con i suoi romanzi da due anni ai vertici dei libri più venduti. La storia d'amore di Abby e Travis in uno splendido disastro. attenzione, il mio disastro sei tu. È un disastro che per sempre ha fatto sognare migliaia di persone. Ora è alla volta di un altro fratello, Maddox. Di un nuovo idillio, amoroso, pieno di ostacoli. E Trent vi conquisteranno, tanto che non vorrete abbandonarli mai più. Io, quando ero piccola, ho letto Uno splendido disastro. È stato tipo il secondo libro che io abbia mai letto seriamente, proprio di mia iniziativa. E mi ero innamorata, persa. Ero totalmente andata per quel libro, per i personaggi, ok? Ci facevo i pianti. Crescendo, si imparano e capiscono molte cose. Diciamo che i personaggi erano abbastanza tossici, soprattutto a livello di possessività, di mascolinità, tossica, tutte queste cose. Non è un libro bello che consiglierei, tipo, mio Dio, bellissimo, stupendo. Tipo da seguire l'esempio, ok? Però all'epoca mi era piaciuto tanto. Era divertente. Cioè, adesso è diventato divertente perché capisco il trash. E proprio per questo, quando l'ho visto al mercatino, insomma, nella libreria del mercatino, ho deciso di prenderlo. Perché io so, cioè, l'ho letto una sola volta, Uno splendido disastro, quando avevo 12 o 13 anni. Probabilmente anche di meno. E io mi ricordo tutto, raga. Tutto, 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 tutto. Infatti so che i fratelli Maddox sono cinque. E quindi ci sono tutti i libri su di loro. Ognuno con una protagonista diversa, ovviamente. E non solo. Sono abbastanza sicura che, come in Uno splendido disastro, che poi è diventata una trilogia, anche questo tipo avrà la sua trilogia e così via dicendo. E quindi non ho resistito al trash. E ho detto, lo prendo, provo a leggerlo. Perché mi mancava proprio leggere un libro, tenerlo in mano, sfogliare le pagine. Ma soprattutto mi mancava fare le annotazioni, mettere i post-it e cose del genere. E allora vorrei dire la verità, un po' mi sono pentita, perché purtroppo quando compro qualcosa che poi è mio, tipo qualcosa per me, quindi mi sento super, 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 super in colpa, perché penso a tutti i motivi per cui non avrei potuto fare a meno di comprarlo. E non lo so, tipo, potevo scaricarmelo sul Kindle gratis, potevo non leggerlo, potevo farmi i fatti miei. E quindi devo leggerlo assolutamente per non dire che sono stati i soldi sprecati e spero di non venderlo in un futuro, perché questo è anche un altro mio problema, che devo compensare le cose che acquisto. Questi sono traumi vari, secondo me, quindi vabbè, ve lo racconto tanto per devo compensare le cose che acquisto facendo delle vendite. E ok, per fortuna ho il mio lavoro, però, tipo, penso siano inutili i libri fisici, dato che ho il Kindle e quindi il mio, la mia cosa è di venderli. Infatti mi pento più della mia vita, perché non avevo lavoro né niente, quindi anni fa, come unica, mi viene in inglese, vabbè, diciamo, soluzione per accimolare un po' di soldi, mi sono messa e ho venduto tutti, 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 tutti i miei libri, a cui ero affezionatissima e mi pento ancora adesso, sono passati 4-5 anni da quando l'ho fatto, comunque ci sto malissimo. E quindi questa era la mia storiella un po' con uno splendido disastro e la scrittrice, che poi ho scoperto, mi sono appena ricordata, che uno splendido disastro è basato su una storia vera che ha vissuto lei, però su una fantasia, perché c'era sto tipo al college che le piaceva, che è su cui è basato Travis, perché per chi non lo conoscesse, non conoscesse il personaggio, è tipo Bad Boy, che va con tutte le ragazze del mondo senza avere impegni, tutto tatuato, tutto muscoloso, che fa, come si dice, lotte, clandestine, tipo fight club. E quindi, vabbè, questa sera innamorata di sto tipo, ma non c'è mai stato niente, quindi è stata tutta una sua fantasia. Poi, tipo vent'anni dopo il college, o dieci anni dopo il college, si ritrovano, perché lui fa il medico adesso, che la visita, che so, e si è ricordato tutte queste cose, che si era fatta, e ha scritto il libro. A me fa molto ridere. Una fangolo pure lei, una sognatrice. A me fa molto ridere. Comunque, il libro è super nuovo, l'avranno appunto regalato e l'hanno portato al mercatino, perché è nuovo, penso non l'abbiano mai letto. Ora vi faccio vedere. Allora, sono a pagina 42, intanto, questi sono i post-it. Oddio, questi sono i post-it che ho deciso di usare per questo libro, perché si abbinano un po' alla copertina, ma ancora non li ho utilizzati, non c'è stato proprio niente da insegnare. Mentre dentro, intanto, la pagina. E dentro lo sto annotando, perché la mia cosa principale era quello di annotare e commentare il libro, appunto perché è trash. e ho questa penna evidenziatore che è passata dalla bocca di Jude, purtroppo, che si può anche cancellare, c'è una gommina su, che è rosa, perfetto. E sto utilizzando questo per annotare. Purtroppo, la gattina l'ha buttata dal tavolo, anche se l'ho messa dentro il libro, lei è riuscita a prenderla allo stesso e l'ha buttata dal tavolo, e Jude se l'ha presa e l'ha mangiocchiata. Ora vi faccio vedere. Allora, per esempio, la protagonista Kami, si chiama tipo Camilla, credo, non lo so, vediamo, si stava un po' descrivendo, e stranamente non è la tipica protagonista da capelli lunghi, biondi, capelli lunghi, castani, occhi verdi, occhi gialli, marroni, non lo so. Mi ha detto, cioè mi ha detto, c'è scritto che ha caschetto castano scompigliato con la folta frangia, e infatti era pratico ma pochi uomini lo trovavano sexy, come l'ho immaginata io, l'ho immaginata proprio brutta, poverina, e infatti ho scritto che brutta, magari non è brutta, però nella mia testa è brutta, non so chi c'ho in mente, perché quando lecco non riesco a visualizzare un volto dei personaggi, riesco a vedere le persone che fanno i movimenti, che so, ma il volto proprio non riesco a visualizzarlo. Poi qui hanno nominato Travis, e quindi va sottolineato. qui Trenton, perché si chiama Trenton, stava parlando e la conversazione era... vediamo... lui che ha incontrato lei, dice ma ci conosciamo? Allora da quel che è peso non ha i tatuaggi, suppongo che non ci siamo conosciuti al negozio, e lei al negozio, al negozio di tatuaggi dove lavoro, e io giustamente ho scritto qua, hot, perché va bene così, poi c'è stata un'altra cosa divertente, tipo, si sono tirati, hanno visto che Travis era lì che ballava con una, non so che faceva casino, e lui scoppia a ridere, fa quello è il mio fratellino, e lei, io non lo direi in giro, real, poi una cosa carina, un po' da psicopatica in realtà, però non tanto, che i fratelli Maddox sono cinque, come ho detto, e hanno tutti i nomi che iniziano con l'AT, cioè Travis, Trenton, Taylor, e gli altri due non me li ricordo, non riesco a ricordarli, ma chissà, non riesco proprio a ricordarli, però so che due sono gemelli, e allora, la protagonista, ha iniziato a parlare di, suoi tre fratelli, e suo cugino, che a quanto pare, stanno sempre tutti e quattro insieme, quindi, tutti e tre i miei fratelli, e il cugino, Colin, si stavano avvicinando, Colin, il più grande, l'unico con un documento autentico, vabbè, cosa diavolo succede? Camille, che è lei, quindi sempre C, e poi, un altro, Chase, sempre con la C, fu il secondo a parlare, vabbè, e poi abbiamo, Clark, che è un altro fratello, quindi sono, loro 4,5, perché c'è anche lei, tutti con la C, la fantasia, di questa, vabbè, e poi, credo di non aver, ah sì, ecco, lei in realtà, ha un fidanzato, ok, quindi quando Trenton ci prova, lei dice, guardate, ha già fidanzato, ma, a quanto pare, sto tipo, non la caga, vive da un'altra parte, rispetto a lei, e non si vedono mai, perché lavora, impegnato con la sua, come si dice, carriera, però lei non può sapere, cosa fa davvero, e non vuole che lei, lo dica ad altri, quindi c'è stato questo scambio, di messaggi, tra lei e il ragazzo, che non sono neanche, a DJ, e è iniziato con, lui che diceva, che cosa hai fatto, perché si dovevano vedere, lei prende e esce, e incontra Trenton, è uscita, niente di che, insomma, lui gli fa che spreco, che spreco passare un weekend a lavorare, gli ha detto lei, e io ho scritto, la tradisce, valese, spero l'abbiate visto, e poi niente, mi sa, quindi, il mio raccontino, è finito, adesso passeremo, alla seconda parte del video, ovvero la lettura, in inaudible, che spero vi piaccia, in inizio, in inizio, no 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 bestramo il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Sì 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 il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 un po' più bello Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Sì, 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 sì. bellissima a tutti a tutti i nostri amici Sì! Sì, è vero. il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Sì, non è vero. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì.